Negli ultimi due giorni ci sono stati due importanti incidenti che hanno visto coinvolta questa zona, uno sulla Montelabatese e uno in zona Cappone. Ecco, questo fa tornare un po' alla luce una problematica che in Italia sta colpendo diversi territori, quello della sicurezza stradale. Come si può fare per migliorare questo cavillo? Bisogna rispettare il codice della strada, il problema è la velocità. Non è un caso che a Civitasmar che nasce un pistodromo per l'educazione al rispetto del codice della strada, perché se uno va alla velocità prevista dal codice non succedono incidenti. E poi bisogna fare anche degli accorgimenti. Noi per esempio investiamo molto, 550 mila euro già appaltati, 550 mila euro da appaltare in sicurezza stradale, in asfalti, togliere laddove ci sono ancora dei margini di insicurezza, in tutte le strade ovviamente comunali. E poi abbiamo messo una cifra rilevantissima di circa 800 mila euro, se non ricordo male, per risistemare, rendere funzionanti anche quelle poche telecamere che magari non erano funzionanti, e soprattutto altre telecamere nuove e vista red che controllano se uno ha la patente, se ha la revisione, se ha tutto quello che prevede la norma di legge, cioè fare in modo che tutti possano rispettare il codice della strada. Se nel centro abitato ci sono i 50, i 30 o i 70, bisogna fare i 30, i 50, i 70. È evidente che non succedono incidenti se non pochissimi, se tutti rispettano il codice della strada. Anzi, pensiamo, noi abbiamo approvato un campo di calcio, campo per l'atletica e campo da rugby a Pian del Bruscolo, pensiamo che lì debba essere una specie di velodromo anche per educare i ragazzini all'uso della bicicletta e l'uso della minimoto, delle piccole moto, per fare in modo che crescono con un'educazione, non solo l'educazione alla legalità, di contrasto alla malavita organizzata, alle mafie, eccetera, ma anche l'educazione al rispetto dei limiti dell'evolicità, del codice della strada e salvare tantissime vite umane. Quindi investire in sicurezza dei cittadini, investire nel sistema di telecamere per far rispettare anche il codice della strada, investire in viabilità, in manutenzione, in piste ciclopedonali che liberano anche le strade ordinarie, comunali, provinciali e statali. E' d'accordo con la nuova proposta del Governo? Ma la nuova proposta del Governo, sai, le proposte sono sempre nei periodi quando succede un incidente, non è una buona norma. Tutto quello che serve per salvare la vita delle persone va bene, non è che c'è una distinzione. Naturalmente va fatta una grande opera di educazione che parte dalle famiglie, che parte dalle scuole, che parte dalle istituzioni, per far sì che ci sia una società veramente corretta di una comunità educata ed educante.